Radarussi Viaggi, una rubrica che vi farà spaziare i vostri orizzonti confinati nel comune. Parleremo di viaggi incredibili, seguiteci nella nostra rubrica viaggi esclusiva del giovedì, vai! Buonasera, buonasera. Oggi parliamo di viaggi a poca distanza da qui. Buonasera, cari fratelli, la rubrica viaggi del giovedì è presentata da gomme da neve, gomme da ghiaccio, balsbort. Ci occupiamo di una zona veramente fantastica che pochi, nonostante la vicinanza a Russi, conoscono e sono i fiumi uniti, precisamente la zona della Bassona, dove una volta c'erano i casotti, le case, dove ci andavano gli scambisti, i nudisti. E adesso, dopo tanti anni, è rimasta una zona colonizzata prettamente da animali, ma se seguirete i miei consigli ci si può arrivare anche via mare, e ci sono tutti i fiumi da attraversare con i viscioni, state attenti. Dopo la mia presentazione, infatti, inizia questo simpatico e bellissimo video di due minuti che vi presenta le magie e i luoghi d'amore della zona fiumi uniti Bassona, in località Lido di Dante, Lido di Savio. Vai! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti